Il Belvedere di Saleo ci ha ospitato per un'intera giornata l'Assemblea regionale Anci Campania e a fare gli onori di casa il Presidente Anci Carlo Marino, Sindaco della città di Caserta. Presente il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Tra le personalità istituzionali il Presidente di Confindustria Campania Gianluigi Traettino, il cui messaggio è stato di ottimismo nonostante l'attuale situazione ampiamente descritta da De Luca. Guardi, io credo che il Presidente De Luca abbia detto delle cose tutto sommato vere e concrete che sono proprie di questa parte del Paese oramai da tanti troppi anni. Io mi permetto di aggiungere una considerazione, cioè che se non viene messa al centro della riflessione la importanza e la rilevanza dell'impresa e dell'industria, credo che qualsiasi sforzo e qualsiasi tentativo in un'economia che oramai degli Stati nazionali, che oramai è governata ed è sostanzialmente amministrata dalla finanza, dai fondi europei, credo che se non si crei un valore ulteriore rispetto ai fondi pubblici all'interno dell'industria e all'interno dell'impresa parliamo di nulla. Cioè anche l'emorragia di giovani che abbiamo, anche l'emorragia di persone dal nostro territorio è frutto del fatto che l'impresa, l'iniziativa privata non viene messa al centro di uno sviluppo del Paese. Per cui se viene prestata maggiore attenzione allo sviluppo dell'industria, in particolare parlo del nostro territorio regionale credo che le opzioni in campo si riducano veramente all'umicino. Allora, come rendere le imprese competitive? Ma io credo che ci sia un modo molto semplice per rendere le imprese competitive, non far sentire gli imprenditori, gli industriali ospiti del territorio nel quale sono insediati. Non c'è un tema di competenze perché il nostro territorio è straordinariamente ricco di competenze, non c'è un tema di diversificazione delle attività industriali perché noi abbiamo tantissimi settori rappresentati, tutti i settori rappresentati nel nostro territorio, alcuni dei quali sono anche dei settori di eccellenza sul piano internazionale tant'è che ci sono investimenti esteri che vengono qui a portare capitali, che è una forma di internazionalizzazione del territorio per sostenere l'industria. Il tema è che dobbiamo consentire alle imprese, alle industrie di essere raggiungibili di essere sicure, di non avere tempi assurdi per l'ottenimento di autorizzazioni e solo in questo modo possiamo immaginare una prospettiva positiva per lo sviluppo del nostro paese e della nostra regione, aggiungo e completo. Tantissimi insediamenti vengono realizzati in quelli che sono definiti brownfield e non greenfield, cioè investimenti nazionali piuttosto che esteri si dirigono verso aziende già esistenti fisicamente, immobiliarmente. Questo perché se si va su un'area nuova i tempi di realizzazione non sono più compatibili con un'economia che comunque al di là delle crisi che ci sono galoppa ritmi di crescita che non sono proprio quelli del nostro paese. Presidente, un'ultima battuta. Siamo in questa struttura fantastica che rappresenta la nostra storia ma che può rappresentare anche il nostro futuro, soprattutto, lo diceva lei, per i tanti giovani che purtroppo dopo la laurea o anche prima vanno via. Io approfitto per fare i miei complimenti al sindaco della città di Caserta, nonché presidente di Anci Campania, per aver scelto di tenere nel Belvedere di San Leocio l'assemblea dell'Anci Campania. Penso che questa sia una ricchezza straordinaria. Io ebbi l'occasione di fare qui l'evento che precedeva la firma, la sottoscrizione del protocollo di investitori esteri insieme a una serie di investitori internazionali e tutti rimasero allibiti dalla visionarietà del re che 240 e oltre anni fa immaginò la prima città autopistica sostanzialmente. Credo che questa sia una struttura che meriti un'attenzione particolare e probabilmente abbia bisogno per esprimere tutto quanto il suo potenziale di professionisti globali, internazionali, fondazioni internazionali che sono specializzate nell'utilizzo e nella gestione di beni ad alto valore potenziale come questo.